Perché almeno monopolizziamo ancora di più con le nostre stupidate il canale di Twitch di Lucca Comics & Games che saluto tutti gli spettatori che stanno guardando e stanno dicendo ma cosa è successo a Lucca quest'anno? Sembra una banda di deficienti. Io ribadisco il fatto che possiedo lo staff più deficiente di tutto Lucca Comics & Games e ne vado fiero perché lavora meglio di chiunque altro staff di Lucca Comics E quindi basta, non me ne frega assolutamente niente di quello che adesso succederà durante Lucca Comics perché adesso vi volevo parlare del Japan Live che è un'area che abbiamo provato a creare dedicata ai cosplayer è il primo anno, ci è andata un po' così e così perché la gente non ha ben capito che cosa volevamo portare spero che vada meglio il prossimo anno anzi, visto che siamo qua con il pubblico di Lucca vi invito a venire al Japan Live a vedere l'area e a dirci cosa non va, noi sappiamo già cosa non va però se ce lo dite voi, magari quelli che stanno ai piani alti ci diranno ehi, forse avete ragione che queste cose non vanno bene tipo una transenna che ci hanno messo davanti che ci bacca volete inquadrare la transenna per favore? la transenna che ci blocca la strada e quindi nessuno può venire qui infatti come vedete stamani è vuoto perché la gente posso prendere il microfono? la gente ci vado lo stesso perché io faccio come mi pare come potete vedere qui la gente non può venire perché è bloccato deve passare di là ma di là la gente non capisce come venire al Japan Live perché? perché? perché abbiamo Lucca che è un disastro e lo sto dicendo in diretta sul canale di Lucca quindi il prossimo anno probabilmente non vedrete al cedo a Lucca Comics ma non me ne frega assolutamente niente quindi questo è l'ultimo good morning Lucca probabilmente se volete ci sono anche domani e probabilmente è l'ultimo anno del Japan Live perché ha rovinato tutto quindi grazie 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 e comunque le felpe rosa fanno cagare e con questo vi dico che good morning Lucca finisce qua e ci rivediamo domani forse sì questo fu il preciso istante in cui ripresi ad offendere abbiamo passato un 2018 senza offese ma ci sono comunque stati tantissimi video e andiamo a rivederli insieme in questo best of 2018 è stato lui no è stato lui è stato lui è stato lui l'Adriano si senti? no devi stare concentrato su di lui sennò si incavola con te dove ho detto? no siamo qua con il solito Harry Potter buongiorno no cacchio 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 ah ma sono in diretta? il sogno di ogni bambino oppure persona che ha studiato quindi non i politici incontrare un dinosauro vero io credo che un cospe così brutto non posso dire che sei una merda nopisce cacchio cacchio iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia a rispettateurs Украї 비 consequences burden this dangerous a Tutte rotte ma mi hanno detto che è la Befana Non era all'esca Sono morto male Come avevi detto che era il film della Marvel? Oh vabbè non è un brutto film Sono un uomo di petto Continuiamo il nostro viaggio e ci troviamo qua di fronte all'elettorato medio del Movimento 5 Stelle Dopo l'approvazione della legge del Novax Come potete vedere la situazione è questa Ragazzi una domanda ma i miei 35 euro? Non lo so Non ho idea Non lo so Potreste averli persi in mare Guarda forse con il grattare vinci E la terra è piatta Dammi la tavola E' piatta come una tavola La terra è piatta ma già da no Guardate Non è piatta Marci Doc Siamo arrivati al Pistoia non solo Comics Sei contento? Certo Doc Grande Angela Ehi tu McFly Fiffone Nessuno può chiamarmi Fiffone Trinità Nessuno Tu ti sei Che vuoi eh Che vuoi? Prima Prima gli italiani Pizzero Sì Vai vai Si va bene anche il bar Sì un gommone o ladra ladra tu non puoi dire ladra prendere il sole poi non c'è nessuno un ladro che sta è scappato come come una catapulta i nostri chef fanno un po di esercizio fisico per digerire il cibo la situazione si sta scaldando il triangolo no non l'avevo considerato magari ci proverò la geometria non è un reato ci ha sorcini ci ha belli un bacio dal regatuzzo gruppo che a tema punto star wars che hanno star trek diventate patrio mettete un like e per qualsiasi cosa personale protagonista della leggenda di zelda in descrizione buonanotte e questo secondo noi il nostro best of 2018 se voi avete qualche scena che vi è piaciuta particolarmente in questo 2018 scrivetelo pure nei commenti noi ci rivediamo il prossimo anno con tantissime novità quindi iscrivetevi spuntate la campanellina seguiteci sui social e se ci volete supportare diventate i nostri partner ci vediamo al prossimo anno sarà un annaltamento scientifico iscrivetevi al canale